Questa volta l'Orso Bruno del Carso, ribattezzato Iosco dagli addetti ai lavori, se l'è vista proprio brutta. Dopo l'incursione di due settimane fa nella cava di Morrupino, con tanto di impronte a testimoniare il suo passaggio, questa volta ha sconfinato in Slovenia a Fernetti, palesandosi nel bel mezzo della carreggiata autostradale della E70. Panico totale tra gli automobilisti che se lo sono trovati di fronte rischiando di investirlo. Tre, le segnalazioni pervenute mercoledì sera, poco dopo le 21.30, alla polizia slovena. Per fortuna non si è verificato alcun incidente perché l'animale, pur di giovane età, solo due anni, ha già raggiunto i 70 chili e non occorre andare lontano nel tempo per documentare simili episodi. La settimana scorsa a Postumia, infatti, una donna è rimasta intrappolata nella propria auto dopo aver investito un esemplare adulto. L'allarme Orso ha tenuto impegnati gli agenti di polizia e guardia caccia italiani e sloveni fino alla mezzanotte. Hanno battuto passo passo la carreggiata per verificare che l'animale si fosse allontanato senza causare pericolo per se stesso o la popolazione. I guardia caccia della provincia di Trieste hanno rilevato lungo la recinzione le piste lasciate dall'Orso che dopo aver corso per un bel tratto lungo l'autostrada ha superato la rete ritornando in un'area boschiva. È l'ennesima testimonianza del fatto che l'animale circola da tempo nell'area carsica e della frequenza di questa specie in Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia. Basti pensare che pochi giorni fa a Tarcento un esemplare adulto è stato munito di radio collare per monitorarne gli spostamenti. Il nostro Yoshko però farà bene a dedicarsi a miele e uova di formica che in questa stagione abbondano e a stare lontano da strade e autostrade.